Forze nemiche all'orizzonte 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 Avvistato incrociatore nemico. 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 Siluria dritta. Ricognitore di ritorno. Ricognitore di ritorno. Ricognitore di ritorno. Avvistato incrociatore nemico. Concentrare il fuoco sulla nave nemica. Ricognitore di ritorno. Ricognitore di ritorno. Abbiamo affondato un cacciatorpediniere nemico. Incrociatore nemico individuato. Corazzata nemica individuata. Avvistato incrociatore nemico. Avvistato incrociatore nemico. Avvistato incrociatore nemico. Allarme incendio. Avvistato incrociatore nemico. Problema risolto, signore. Incrociatore nemico individuato. Corazzata nemica individuata. In volo. In volo. In volo. Avvistato incrociatore nemico. Avvistato incrociatore nemico. Ricognitore nemico. Ricognitore di ritorno. Buon appetito. Abituata. Avvistato incrociatore nemico. Abituata. 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 Allarme incendio. La corazzata nemica sta colando a picco. A tutte le unità, procedete verso la cattura di quell'area. Ricognitore distrutto. La battaglia terminerà in cinque minuti. Siluri a prua! Siluri dritti di prua! All stations, concentrate fire on that target. La nostra squadra! La squadra è in vantaggio. La squadra è in vantaggio. No! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.